Il primo incontro di questa serata è un incontro di K1 Peso 81 kg e 400 che si svolgerà sulla lunghezza di premi prese da 2 minuti Signore e signori, facciamo un grandissimo applauso per Rosario Bossa Rosario Bossa Il suo avversario Facciamo un grandissimo applauso e raccogliamolo qui sul ring a Mr. Katalin Di Nica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Prima ripresa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti